buongiorno stiamo con alessandro zannoni autore di questo bellissimo libro lo scambio il caso janovis un'idea da di gabriele guidi allora alessandro ha un'esperienza come antiquario e quindi questa sensibilità la mette in praticamente in tutte le sue opere in particolare questa riapre un nodo storico e racconta una storia vera sono due storie vere perché ci sono in parallelo alla storia di questo cornelius gurlitt che è stata l'idea che ha fatto balenare poi tutta l'altra storia che nel 2012 è stato scoperto in germania questo vecchio che era un fantasma per lo stato quando sono andati in casa a cercare come mai come vivesse quella stesse facendo hanno scoperto che c'erano migliaia di opere che lui aveva stava gelosamente costudendo e si viene a sapere che sono opere che erano ricercate da anni che si pensavano pensavano fossero scomparse la shoah è stato il culmine no è stata la cosa più terribile che abbiamo scoperto e saputo ma anche il fatto di che i nazisti volessero rubare tutte queste opere d'arte a tutti i paesi che stavano occupando credo che sia stata una shoah artistica se si può dire in questa maniera come sempre per quanto ti riguarda è un libro ben scritto con una trama intrigante da thriller e che però ti lascia anche attaccato qualcosa nel senso che impari un pezzo di storia che oggi tendiamo un po dimenticare perché ci sono migliaia di persone che ancora stanno rivendicando le loro proprietà che vennero trafugati durante il regime nazista e che non hanno ancora avuto giustizia quindi hai voluto fare un'opera di giustizia che ci sono migliaia di quadri nei cavo di banche di associazioni di istituzioni culturali case d'aste che non tirano fuori proprio perché sanno che andrebbero incontro a dei grossi problemi che sono tantissime tantissimi studi di avvocatura internazionale che lavorano intorno a questi a questi casi io non lo sapevo pure avendo fatto l'antiquario specializzato in dipinti antichi per vent'anni tramite questa notizia tutte le ricerche che ho fatto sono venuto a sapere che ci sono veramente tantissime famiglie che aspettano risposte sui quadri che sono stati depredati durante la guerra ma non ne hanno ricevute la cosa impressionante è questa un'altra cosa che fai accendi il faro su su una un'umanità diciamo in coinvolta in questa questione che il cui obiettivo è la caccia a questi a queste opere e la caccia alla giustizia per chi li aveva che per chi li aveva possedute e sono organizzazioni internazionali ma anche presenti in italia credo che tutti si è ispirato a qualcosa di vero con i due avvocati e con la consulente artistica che che li sostiene mi sono accorto che in effetti è ci sono tantissima tantissime di queste di questi casi ci sono tantissime persone che ci lavorano intorno e mi sono documentato su cose vere per tutto quello che scrivo e sono tutte cose assolutamente reali che esistono è stato un divertimento e anche un'esperienza di di apprendimento notevole anzi esorto quelli che leggeranno il libro se sono interessati ad andarsi a approfondire le notizie che purtroppo non è un saggio è un romanzo però tutte le cose che scrivo sono assolutamente tutte vere ecco noi ovviamente parliamo di quadri importanti chagall picasso mattis renois cioè la storia della pittura moderna e contemporanea e quindi parliamo anche di patrimoni significativi e cosa succede una volta che vengono recuperati questi quadri tu lo racconti nel libro sì ad esempio ci sono diversi casi in cui sono riusciti dopo anni ma anni di battaglie legali ci sono le famiglie che si riprendono i quadri qualcuno invece li dona dei musei oppure se li prende se li rimette in casa e dipende un po dalle famiglie che sono implicate nella nelle varie vicende no ma la cosa fondamentale è che vorrei sottolineare che ci sono stati oltre all'estero anche in italia ci sono stati tantissimi personaggi che stanno venendo fuori in questi ultimi anni che hanno salvato il nostro patrimonio nazionale di cultura poti anche farlo sulla sulle banche svizzere che in qualche modo hanno fatto da collettore di tutte queste opere è uno scandalo ancora tutt'oggi facendo le ricerche ho capito una cosa fondamentale intanto che la germania ha veramente la ferita ancora aperta e sta cercando di ricrearsi una virginità dopo quello che è accaduto quindi quando te parli di quadri rubati alla famiglia ebrei lì in germania stanno attentissimi ci sono una ma ancora tanti ma tanti registri in cui ci sono scritti e registrati tutti i quadri che sono stati rubati alle varie famiglie che hanno poi denunciato il fatto e qua come ho capito che la svizzera è stato un bel posticino tranquillo dove far passare quadri rubati e soldi rubati agli ebrei fortunatamente poi adesso non mi ricordo date eccetera c'è stato però importantissimo una legge che obbligava le banche svizzere a chiamare o cercare gli eredi di questi ebrei che avevano aperto delle cassette di sicurezza dei conti bancari e riconsegnare i soldi ai legittimi proprietari e di lì poi come sai è partito anche l'idea del romanzo da questa cassetta di sicurezza che la banca è riuscita a trovare il proprietario anzi gli eredi del proprietario e di lì poi dopo si sviluppa tutta la vicenda mentre noi suggeriamo ripeto il titolo del libro la lettura dello scambio il caso janovis ricordo ai nostri ascoltatori e la nostra battuta finale che la letteratura è un antidoto contro le malattie della vita ci daresti due pillole di questo antidoto suggerendo due libri da leggere uno è sicuramente colpo di spugna di jim thompson perché per chi ama i noir possa capire da dove vengono e un altro potrebbe essere anche leo malè con la vita fa schifo quindi sono due titoli belli pesi che consiglio a tutti benissimo grazie per essere stato con noi alessandro zannoni lo scambio il caso janovis alla prossima saluti a tutti ciao